Ciao ragazzi qui è Crypto World, nel video di oggi voglio parlarvi della truffa che è appena successa con BNB Eros Cosa è successo per filo e per segno andremo a ripercorrerlo insieme, come si è arrivati a questo punto e che cosa succederà adesso Vi farò vedere inoltre le transazioni su BSC Scan che attestano che questa è stata una truffa da parte degli admin a noi utenti E insieme, grazie a queste transazioni, risaliremo ai truffatori Il token BNB Eros nell'ultime 24 ore è calato del 90%, il market cap è stato decimato e andiamo a vedere che cosa è successo Il token ieri verso le 3 di pomeriggio è calato del 50%, sembrava rialzarsi ma dopo qualche ora andiamo a vedere che è dampato Ha portato il token a quasi 50 centesimi e al momento è arrivato a 20 centesimi È stata una calata terribile, infatti ho tolto il video perché non volevo che altre persone andassero a vedere un video anacronistico Perché questo progetto si è rivelato una truffa e volevo prima capirci qualcosa per capire che cosa fare Tutte le transazioni che vengono effettuate nella blockchain vengono registrate in un explorer L'explorer della Binance Smart Chain è BSC Scan, lo stesso sito che vi ho fatto vedere per la reward pool Andiamo a vedere la reward pool e vediamo che al momento è di soli 41 mila dollari 24 ore fa era di oltre 8 milioni e poco più di 24 ore fa era arrivata a 12 Questi 8 milioni non li hanno ritirati gli utenti come cercano di farci credere il team di BNB Eros Non possiamo risalire con certezza alle transazioni che hanno svuotato questa pool Perché quelle transazioni erano delle transazioni interne allo smart contract Infatti andando qui nelle transazioni interne e mettendo view all vediamo che ci sono oltre 100.000 transazioni e nei record sono solo le ultime 10.000 Tornando indietro alla 200esima pagina e vediamo che alla 200esima pagina la reward pool stava sparendo a vista d'occhio Ogni minuto venivano effettuate centinaia di transazioni da tanti account diversi che andavano a prosciugare questa reward pool Come potete immaginare con la reward pool prosciugata il token è continuato a scendere di prezzo Non c'era più la possibilità di ritirare i propri guadagni E si è verificato un panic selling da parte degli utenti che ha portato il prezzo ancora più basso Ma chi ha iniziato a vendere sono stati gli admin Andiamo a vedere su discord le comunicazioni che hanno effettuato quel giorno Che sembravano davvero positive per la longevità di questo progetto Infatti vediamo come il 5 dicembre abbiano effettuato un grande burn di 11 milioni E il 6 dicembre già dalla notte del 6 dicembre si parlava di un listing in un central exchange Con oltre un miliardo di transazioni al giorno E vediamo come con questa comunicazione ne parlavano e dicevano che stavano per essere listati in un central exchange La stessa mattina è stata completata l'audit da parte di Certik Certik è una compagnia grandissima che effettua la revisione degli smart contract Erano più di due settimane che si aspettava questa revisione Hanno revisionato linea per linea tutti i codici scritti all'interno del gioco Ed hanno rilasciato un report Se andiamo a vedere il report vediamo che nonostante non ci siano problemi critici C'erano 4 maggiori problemi molto grandi da risolvere Ad esempio il admin di questo progetto poteva permettere a delle persone di evitare la tassazione del 20-30% Inoltre poteva levare le tasse sulla transazione a determinati address Cosa che poi ho fatto Tornando su Discord A un certo punto si è iniziato a dire che questa pool stava sparendo Ed era calata di molto Perché molti utenti stavano prendendo insieme i guadagni E vediamo come questa comunicazione di listing imminente è stata effettuata anche da parte di questo exchange Questa è la comunicazione su Twitter di questo exchange E qui sotto andiamo a vedere che è stata fatta all'1.20 di pomeriggio Vediamo cosa è successo ancora Un moderatore va a chiamare tutti gli utenti di vedere questa comunicazione Questo mi è sembrato un tentativo in extremis di prendere altra liquidità Vediamo che alle 3.53 dicono che il progetto è forte Che molte cose stanno per arrivare Chiedono supporto alla gente E danno la colpa al panic selling che stava succedendo in quel momento con le crypto Dovuto al crollo di Bitcoin Inoltre dicono che non c'è bisogno di avere paura Perché molte persone hanno preso BNB tutte insieme E poche ore dopo alle 7.37 Vanno a dare una comunicazione ufficiale Dicendo che questo momento è molto difficile Che le persone che si lamentano e vanno contro il progetto verranno bannate E chiedono alla comunità di essere forte eccetera eccetera Questa situazione l'ho vista tutta insieme ieri sera Perché non avevo la possibilità di accedere a queste notizie Dato che stavo lavorando e stavo facendo altro in quel momento Ho messo il video privato Così da non permettere ad altre persone di finire in questa truffa Scendiamo qui e vediamo che stamattina ci hanno preso per i fondelli Hanno iniziato a dire che la pool è stata svuotata da persone Che hanno venduto tutte insieme dal panic selling Che avrebbero permesso alle persone di poter riprendere i loro investimenti in BNBH Visto che non c'era più la pool del BNB Siccome nella pool del BNBH ci sono ancora 3, 4, 5 milioni di liquidità Dare la possibilità alle persone di riprendere i fondi in BNBH Avrebbe permesso alle persone di riprendere quello che hanno investito Si discolpano dicendo che loro non hanno tolto la liquidità da questo progetto Infatti il token potete acquistarla ancora oggi E continuano a chiedere supporto alle persone Altra comunicazione un paio di minuti dopo E dicono potete ritirare i fondi Ma questa cosa di ritirare i fondi non c'è stata permessa Vi faccio vedere che se io vado su BNBH E provo a fare il claim Mi dà che questa funzione di claim è stata migrata e non è possibile Inoltre vi dico che qui hanno fatto sparire una comunicazione Che è stata fatta poche ore fa verso l'una In cui dicevano che abbandonavano il progetto Hanno messo un annuncio sul loro sito Quindi andando sul sito ti ritrovavi una schermata che diceva Scusavano per quello che è successo Che li dispiaceva Che purtroppo non avendo più liquidità da dare agli utenti Il progetto veniva abbandonato Nonostante molte persone gli dicessero Di fare in modo di creare liquidità del BNBH In modo tale da permettere alle persone perlomeno di riprendere i loro fondi Questa cosa non è successa Hanno fatto sparire la comunicazione Vi faccio vedere qui una parte dello screen Purtroppo non l'ho intera Ed è questa qui che dice che BNB Heroes è ufficialmente finito Tutti i giocatori devono fermarsi Di fare transazioni all'interno del sito di BNB Heroes Perché non siamo più in grado di dare alle persone I loro BNBH e i loro BNB Dopo aver fatto questa comunicazione L'hanno tolta E guardate che è successo Hanno detto che no ci stiamo lavorando Stiamo cercando di continuare il progetto E di avere tolleranza Di stare tranquilli Ma questa è una presa per il culo Altra cosa interessante è che In uno screen di Telegram Che ha messo uno dei moderatori Dicendo che gli admin andavano ad abbandonare il progetto Vediamo che loro non combaciava Ma che si trattava Di una comunicazione Che era stata fatta 24 ore prima Quindi loro 24 ore prima Quasi 48 ore fa Avevano già deciso Di abbandonare il progetto E stavano rubando la liquidità Stavano rubando la liquidità dalla pool Dalla reward pool Stavano rubando la liquidità Dalla token Dal BNBH Faccio vedere le transazioni di vendita Sul BSC Scan Che sono state effettuate Dai principali wallet Detentori di questo token Il primo wallet che andiamo a vedere È questo con il finale di BD26 Questo wallet ha iniziato A mandare transazioni in altri wallet Che andavano a finire su Binance 19 giorni fa E 19 giorni fa È quando è stato creato BNB Heroes Questo wallet Era tra i principali detentori E è uno dei wallet del team Andiamo a vedere che questo wallet Ancora ha un milione al suo interno E vediamo come questo wallet Ha continuato a mandare soldi su Binance E su altri wallet Con cui vendeva i BNBH Questa cosa mi fa alterare Giustamente Perché 2500 BNB Sono parte di quei milioni Che sono spariti Qua stiamo parlando di milioni Non stiamo parlando di speech E questo wallet Insieme ad altri Che fanno parte del team Hanno rubato Oltre 12 milioni A noi utenti Comunque Andiamo avanti con i prossimi wallet Andiamo a vedere come questi 8 wallet Continuano a vendere BNBH E vediamo che le transazioni Sono state fatte Oltre un giorno fa Nel momento in cui hanno deciso Ad abbandonare il progetto Ma venivano effettuate Anche prima Migliaia su migliaia Di BNBH E al tempo di queste vendite Il BNBH Toccava i 3-5 dollari Questa ad esempio Ad uno di questi wallet Andiamo a vedere Le transazioni BNBH BNBH Del secondo Altre vendite Altro wallet Altre transazioni Qui Soprattutto Guardate quante ne sono Qui stiamo parlando Di 120 mila BNBH Che ha ricevuto E che ha tampato Nel giro di 24 ore Prossimo wallet Stessa cosa Per tutti questi wallet Andava a scambiarli Su PancakeSwap Altro wallet Altre transazioni Altro wallet Altre transazioni 10.000 8.000 11.000 Altro wallet Altre transazioni Questo wallet Ancora 7.000 dollari Stranamente E vediamo che li ha scambiati Anche in boost Perché ovviamente Che fai? Li tieni in BNBH? No Li scambi in boost Così riesci a passarli meglio E guadagni di più Altro wallet Altre vendite Indovinate dove vanno a finire Tutti questi scambi Dove vanno a finire questi soldi? Andiamo a vedere le transazioni E vanno a finire tutti Nello stesso wallet BD26 156 BNB Altro account 247 BNB 280 BNB Potrei continuare per un sacco di tempo A fare questa cosa 319 BNB Che vengono mandati Al wallet principale Che manda i soldi su Binance 636 BNB 423 BNB 193 BNB E vediamo che già lo faceva Da oltre una settimana Continuava a prendere liquidità La mandava Sul suo wallet principale Che mandava su Binance Ma da dove prendevano Tutti questi BNB Per venderne Vendevano milioni Euro di transazioni Come facevano ad avere Tutti questi BNB Visto che il prezzo Era salito Molto velocemente E a meno che non fossi stato Uno del team Non avessi avuto accesso A tutti questi BNB Infatti Guarda caso L'admin Del progetto Aveva un bel Portfolio di BNB H Che è andato piano piano A svuotarsi Mandando questi BNB H Ad altri wallet Indovinate quali wallet sono Vediamo come questi wallet Hanno mandato 400.000 BNB H Hanno mandato 40.000 40.000 100.000 100.000 Questo 14 giorni fa Hanno iniziato a distribuire Tutti questi BNB H Nei vari account In modo tale da tamparli Senza far sospettare Noi utenti Qui addirittura Vediamo che hanno messo 20.000.000 Di BNB H Questo era uno dei portfogli Che all'inizio Dicevano magari servisse Per un exchange Ma cosa che non si è rivelata vera Hanno iniziato a distribuire Questi BNB H In altri account Per poterli tampare Vediamo come Anche qui 500.000 BNB H Sono stati scambiati Qui ha liquidato direttamente I BNB H Qui ha scambiato Altri 100.000 BNB H In altri account E lo sapete qual è la cosa Che mi fa Anche inalterare È che Questi account Guarda caso Erano tra gli account Che avevano il privilegio Di non pagare La tassazione del 12% Nello swap Chissà perché Chissà perché questi 12 account Che ora mandano i soldi In un unico account Che li rimanda su Binance Avevano questo privilegio Di non dover pagare I BNB H Chi poteva dargli Questo privilegio L'admin Queste transazioni Dimostrano La truffa Che è stata effettuata Ai nostri danni Questo account Che va a finire Con BD26 Sapete quanto Ha fatto Quanto ha mandato Su Binance Oltre 3 milioni Non so il numero preciso Perché è davvero alto Ma parliamo Dai 3 ai 5 milioni Che ha rubato Ma capite che È stata una Mega truffa E ora andiamo a vedere Come questo address Questo account L'account Che ha creato Il primo smart contract Del BNBH Che aveva l'ownership Quindi poteva effettuare Delle modifiche Andava ad escludere Dalle fee Infatti vediamo qui Tutte transazioni Di esclusione Dalle fee Di pagamento Quindi sia per ritirare I soldi All'interno di BNBH Sia per non pagare Le fee Nello swap Così da non riempire La pool Che riempivano Tutti gli utenti Abbia effettuato Tutte queste transazioni Vediamo Due giorni fa Due giorni fa Un giorno fa Queste transazioni Per modificare Il codice principale Di BNBH Queste transazioni Sono state fatte Dopo aver dato Il codice A chi ha fatto L'audit Quindi a quelli di Certik Che di certo Non potevano Immaginarsi Una cosa del genere Questo ci fa capire Come un admin Se voglia Nella blockchain Possa prendere E fare il rag pull Quindi possa prendere E rubarci soldi A noi utenti Allora Che cosa possiamo fare ora Dato che abbiamo Tutti le transazioni Che ci dimostrano La truffa Che è stata effettuata Per prima cosa Andrò a presentare Un esposto A Pink Sale Pink Sale È una piattaforma Di launchpad Decentralizzata Andiamo a vedere Che nella pre sale Che ha effettuato BNB e ROS Loro avevano Il badge Che è C Quindi Pink Sale Ha verificato Le loro identità Ha i loro documenti Ed ha i video Di registrazione In cui loro parlano E certificano Di essere se stessi Documenti in mano Che cosa vuol dire Che Pink Sale Nelle loro pratiche Cosa che gli ho visto fare Se Pensa che un progetto Abbia effettuato Una truffa Abbia tolto la liquidità Abbia fatto Uno slow rag O un rag pull E in questo caso Sono stati effettuati Sia uno slow rag Quindi una vendita Piano piano Di vari token Per rubare liquidità E sia un rag pull finale Con la sparizione Di milioni Io presenterò un esposto A Pink Sale Dandogli tutto Quello che ho scoperto Ovviamente Tutte queste transazioni Non le ho scoperte Anch'io Insieme ad altre persone Ho messo insieme i pezzi Andando a cercare Le varie transazioni Su BSC Scan E mettendomi in contatto Con altre persone Su Discord Siamo arrivati a questo Più di questo Non riusciamo Perché nel momento In cui i soldi Vengono depositati Su Binance Non abbiamo più La capacità Di tracciare Quei soldi Però Binance Ha i loro documenti Loro hanno I documenti Dei truffatori Nel caso in cui Decidessero Di approvare questa cosa Andranno a rilasciare I documenti E di certo Non è una cosa Che le persone Li faranno passare liscia Una volta rilasciati I loro documenti Gli utenti E le persone Potranno Prendere Provvedimenti legali Nei loro confronti E molto probabilmente E lo spero Vivamente in futuro Arrestati Al momento C'è bisogno Di regolamentazioni Nella blockchain Nelle cripto Non dobbiamo Permettere alle persone Di poter rubare Milioni e milioni Di dollari Averli nel loro Ponto E andarsene Alle Cayman O in qualche Isola sperduta A bere margarita Tutto il giorno Con i nostri soldi Non so con certezza Quello che andrà a succedere Io farò questo esposto Poi ci penserà Pink Sale Inoltre Manderò questi dati E queste cose Anche ad altre aziende Che si occupano Di investigazioni private All'interno Della blockchain Per permettere Alle persone Di poter rintracciare Questi truffatori Non so Come potrà andare A finire Sicuramente Sono curioso Di vedere Quello che succederà E vi aggiornerò Con tutte le novità Nei commenti Di questo video Detto ciò Grazie per aver visto Questo video Spero che queste cose Non succedano più All'interno Della blockchain Però purtroppo Ancora oggi Ci ritroviamo Ad avere Truffe su truffe Ogni giorno Spero che Arrivino Delle regolamentazioni All'interno Della blockchain In futuro E spero Che arrivino Presto Come ho detto Nel video Io non sono Assolutamente Affiliato con loro Ed anzi Ed andrò A contattare Pink Sale Per avere Il rilascio Pubblico Dei loro documenti Vi lascio Nella descrizione Tutta la documentazione E tutti Le account E le transazioni Che sono state Effettuate Su BSC Scan Nel caso in cui Venissero rilasciati I documenti Da Pink Sale Vi farò sapere Subito Qui sotto Nella descrizione E nei commenti Detto ciò Vi auguro Una buona serata E vi ringrazio Per aver visto Questo video Alla prossima Qui da Pietro Pietro Ciao